buongiorno piccolo quasi è brillata mi sa sta mangiando sei qua? è troppo facile, non mi piace io stavo dicendo guarda, scendio, devo andare 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 uno dei miei più grandi desideri è di poter ballare anche magari in età avanzata, chi lo sa così come balla il protagonista del video di Fireworks, la canzone di Purple Disco Machine con Moschina Ednax su Radio Kiss Kiss, che probabilmente avrete anche visto sul 158 del Digitale Terrestre, lo 726 di Sky, allora Kiss Kiss TV ok, ma desideri che si devono avverare in qualche modo e come facciamo ad avverarli innanzitutto dobbiamo averli chiari in testa e dobbiamo anche enunciarli senti come parlo bene oggi voglio raggiungere il mio obiettivo 15 chilometri di corsa sto, grazie, Matti con la vostra musica nelle orecchie grazie per la compagnia ok, no, perché poi anzi mare per un attimo ho tenuto il peggio non era un doppio strike invece sì stavo proprio torrento di questa misericordia divina torina che gli indicatori del covid sono in discesa grazie alle misure restruttive ma avverte li lascia così li lascia così vai a mettere la musica il matto li lascia così in balia in balia del pesce il piccolo lo prende e conclude lui l'azione tiralo dentro così tiralo forte 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 e andiamo vieni qua fatti dieci grande il tuo primo pescione te ne faccio prendere altri 4-5 oggi così ce lo togliamo cos'è il mio pesce sai che pesce è grosso è il dentice quello è il dentice adesso ne prendiamo un altro dentice è molto facile va bene allora ragazzi vi dico che abbiamo la vasca piena quindi sono cazzi vostri ci vediamo fra pochissimo tempo di calarlo arriviamo pesca col matto com'è pesca col matto? bellissimo bella lì bella lì